Tariffe Trenord, aumenti in vista per pendolari e viaggiatori. Dal 1 settembre i pendolari che utilizzano il servizio ferroviario Lombardo spenderanno circa il 4% in più per muoversi. A rincarare saranno sia i biglietti del treno sia gli abbonamenti. Gli aumenti sono stati adottati da Regione Lombardia che ha stabilito in via definitiva l'adeguamento delle tariffe per il 2023. Ad essere coinvolti saranno, come detto, sia i titoli di viaggio ordinari, ossia le corse singole e gli abbonamenti, sia gli integrati come Treno Città, Io Viaggio Ovunque Lombardia e Io Viaggio Ovunque Provincia. L'aumento è del 3,82% per i titoli ferroviari e dell'1,91% per quelli integrati. I viaggiatori, calcolatrici alla mano, possono già fare i conti su quanto inciderà. Ad esempio il mensile Io Viaggio Ovunque Provincia per la tratta Comolecco, Lodi, Sondrio e Varese passerà da 76 a 78 euro. Infine il supplemento riguarderà anche il trasporto animali, 2 euro, mentre per la bicicletta ha confermato il costo di 3 euro.